Benvenuto alla School Comics Aprilia, la prima e unica scuola del fumetto della città per diffondere la passione e la cultura dell'arte visiva e del fumetto. Ecco i corsi che ti proponiamo per l'anno 2014-2015. Sono corsi differenti per età, competenze e aspirazioni. Partiamo dal fumetto junior. Linea, punto, superficie, imparare divertendosi. Un approccio ludico-artistico con il disegno dei personaggi che popolano la fantasia di bambini e ragazzi. Lezioni con contenuti affini a tematiche scolastiche. Un'esperienza tutta nuova per giovani artisti in erba. Fumetto senior. Da appassionato di disegno a realizzatore di fumetti. Per te un interdidattico dà l'idea alla pubblicazione. Per semplici appassionati o per chi vuole farne una professione. Il corso di Cake Design. Due percorsi specifici. Uno per ragazzi, dove giocando con la pasta di zucchero imparano a modellare e sono stimolati nella fantasia. E uno per gli adulti, dove scoprire tecniche segreti e per affinare al meglio le proprie capacità. Art Toys. Cosa c'è di più bello? Di acquisire la capacità di personalizzare un giocattolo. Tutto questo ora è possibile. Realizza il tuo custom toy sperimentando moltissimi materiali. Parti di giocattoli riciclati, resine, paste modellabili e vernici varie. Un corso innovativo ed esclusivo. Lo trovi solo alla School Comics Aprilia. Ritrattistica. Attraverso il disegno realistico si prende possesso della realtà, si riproducono le sue forme e i suoi colori, coinvolgendo se stessi e le proprie emozioni. Il Digital Drawing. Nessuno può fare a meno di confrontarsi con le nuove tecnologie. Lo scopo del corso è quello di avvicinarsi alla realtà digitale. Il Cinema d'animazione. La Cartoon Art è una moderna forma d'arte strettamente legata alle nuove tecnologie digitali, che riesce a coniugare la manualità e l'estro creativo, tipico delle arti classiche, con le moderne tecniche informatiche. Tutti i nostri corsi prevedono il rilascio degli attestati di frequenza e una mostra collettiva di fine anno. Chiamaci per saperne di più. School Comics Aprilia, per diffondere la passione e la cultura dell'arte visiva e del fumetto.